Ferragnes, addio. E secondo gli ultimi gossip, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero a un passo dal divorzio, le voci più recenti sostengono che l'influencer e il rapper avrebbe deciso di affrontare una separazione consensuale. Pare anche che lui abbia scelto di farsi rappresentare dai legali di Hilary Blasi. Sono rumor, proprio come quelli che li vogliono entrambi già accompagnati. Lei starebbe uscendo con Tony F., lui con la modella Garance Autier proprio nelle ultime ore sono uscite anche delle paparazzate. Ma anche questo resta nel campo del gossip. Chi invece ha deciso di parlare pubblicamente adesso è Rosy Chin, la chef e ristoratrice di origine cinese che il pubblico ha conosciuto bene nell'ultimo Grande Fratello. Come emerso anche durante il reality, Rosy Chin è la proprietaria di un ristorante a Milano che era frequentato spesso da Chiara Ferragni e Fedez, al punto che la donna avrebbe deciso di destinare ai due un tavolo riservato tenuto quotidianamente libero per poter accogliere la coppia. Oggi è rimasta amica di lei, come dimostrano le ultime dichiarazioni. Nell'intervista rilasciata nel corso del programma radiofonico Turchesando, l'ex concorrente del Grande Fratello ha commentato la separazione tra i due. Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l'ho sentito. Chiara è una patatona, ha spiegato confermando il legame con l'influencer. Ma Fedez ha riservato parole diverse. Fedez avrebbe potuto aspettare invece di sbatterle in faccia la nuova fidanzata, l'ha abbandonata nel momento peggiore, ha detto Rosici riferendosi al flirt con la modella ventenne. E ancora, anche io prendo una posizione. Lui avrebbe dovuto avere un po' di tatto. Da mamma e da donna, sono con lei. Io esco da una situazione sentimentale passata difficile, diversa da quella attuale, comprendo la sua sofferenza. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.